vogliamo riguardare quasi tutto sulla diagonalizzazione e diagonalizzabilità di endometrismi quindi intanto iniziamo con cosa vogliamo fare noi abbiamo un V che è un K spazio vettoriale cioè è un insieme che è chiuso per due operazioni definite che sono la somma e il prodotto prescalare e abbiamo un'applicazione lineare che è da V e è V quindi quando lo spazio di partenza e lo spazio di arrivo sono gli stessi questa cosa qua è un endomorfismo definito su V che è un'applicazione lineare così sappiamo qualcosa di molto bello dal teorema di Grassman dei endomorfismi che o fanno schifo quindi se non è ok scriviamo così se F non è bionivoca significa che non è iniettiva e suriettiva però noi sappiamo che se F ovviamente faccio non iniettiva e non suriettiva se F in endomorfismo non è iniettivo allora per Grassman non è suriettivo e quindi non è bionivoca e questo ci permette di fare molte cose interessanti ma lo scopo che vogliamo fare noi è sappiamo che il endomorfismo può essere rappresentato da una matrice rappresentatrice tramite due basi dello spazio vettoriale V possono essere anche diverse V e V' ma cosa rappresenta questa matrice? questa matrice sono i coefficienti è una matrice che ha A1,1 fino a N,N se la dimensione di V è N e se questo è il endomorfismo fino a 1,N e qua fino a N,1 e via e via questi tutti A e J sono i coefficienti da dare a F della base per scrivere come combinazione lineare della base adesso esempio se noi usiamo come E la base canonica quindi formata da A E1 E2 fino a N magari possiamo fermarci a R3 quindi abbiamo solo tre vettori come facciamo a calcolare la matrice rappresentatrice dobbiamo avere la legge che lega x, y, z in qualcosa per esempio x più y più z x meno z x e z ok calcoliamo F di E1 F di E2 e F di E3 e otteniamo dei vettori V1 V2 e V3 ora errore madornale non metteteli qua no no non si fa così perché non sono le entrate non sono le coordinate di F di V ma sono le coordinate di F di V rispetto alla base quindi se F di E1 uguale V1 lo dobbiamo scrivere come combinazione lineare quindi A1 U1 V1 più A2 U1 U2 io sono stanco sbagliato ovviamente abbiamo detto della base di partenza quindi E1 E2 E3 E1 E3 Questi sono le nostre entrate nella matrice ovviamente a matrici diverse corrispondono applicazioni linee diverse ma non solo perché a matrici diverse ma rispetto a basi diverse può corrispondere lo stesso endomorfismo ossia che un endomorfismo è fissato dalla sua matrice rappresentatrice quando io scrivo solo B significa che la base B è sia di V in partenza che in arrivo che almeno è comodo e noi non vogliamo fare troppi calcoli perché una matrice con 9 entrate tutte diverse è estremamente complicata da trattare estremamente quando magari invece ha una matrice che è diagonale qua sono tutti 0 sarebbe estremamente comodo soprattutto perché pensiamo cosa significa questi qua sono i coefficienti da dare quindi immaginiamo che appunto A1 1 sia 1 A2 1 sia 0 e A3 1 sia 0 questo significa che F di la nostra base è 1 uguale una volta il nostro vettore quindi per esempio il primo vettore rimane in se stesso F non sta cambiando il primo vettore della base se leggiamo sulla seconda cosa questo significa che è 0 volte E1 più 2 volte E2 ossia 2 volte E2 ma questo significa che il secondo vettore della base viene soltanto duplicato non fa niente di strano e allo stesso modo il terzo vettore della base diventa soltanto 9 volte E3 quindi in pratica se noi ci immaginiamo cosa fa un'applicazione lineare una trasformazione lineare ti prende un vettore e te lo fa ruotare questo te lo fa diventare un vettore cos'ha però a quanto pare abbiamo visto dei vettori che non venivano modificati per esempio E1 lo scrivo così E1 abbiamo poi E2 e vabbè questo è uscente dal foglio E3 facevo qualcosa di strano E1 E1 primo lo chiamo e ma è uguale E2 E2 primo era uguale solo con lunghezza doppia e E3 aveva lunghezza 9 volte quindi E3 primo uguale 9 E3 e queste cose qua sono abbastanza importanti infatti cominciamo un po' con le definizioni chiamiamo i vettori v che fanno questa cosa qua che sono diversi a 0 li chiamiamo autovettori ossia è l'insieme dei vettori diversi a 0 appartenenti al spazio originale tale che f di v uguale lambda ma non solo questo qua è l'insieme di tutti gli autovettori ma non solo perché a ogni autovettore quindi corrisponde un suo certo numerino particolare quel lambda quel coefficiente che c'è nella matrice con i lambda vengono chiamati autovalori e adesso ci poniamo una domanda io riesco a trovare una base rispetto a cui magari la mia matrice è diagonale è come se noi ci mettessimo nel sistema di riferimento giusto in cui le cose appaiono molto chiare se voi provate a guardare un cilindro da una certa direzione vi appare qualcosa di più o meno complicato descritto in questa forma qua può essere complesso perché qua c'è un nellissoide però è rotato e strano qua c'è una curva che non so non saprei bene come definirla e non la vedo questa parte dietro e qua si sembra un rettangolo ma poi in realtà questa parte qua è curva e è dietro se noi ci mettiamo dal punto di vista giusto questa cosa qua può diventare un rettangolo o se guardiamo dal profilo può diventare una circonferenza ecco stesso ragionamento noi cerchiamo una base quindi un nuovo sistema di riferimenti in cui guardare le cose e la matrice ci appare più semplice per essere più precisi noi vogliamo che la nostra matrice per esempio la calcoliamo sulla base canonica sia simile a una matrice diagonale e essere simili significa che la nostra matrice E la posso scrivere come porto di tre matrici D diagonale e una matrice P generica che basta che sia invertibile dato che devo moltiplicare per la inversa qua e da large barriere noi dovremmo già saper fare i cambiamenti di base ma comunque andiamo a vedere come si fanno ipotizziamo appunto che noi partiamo da V e arriviamo in V adesso io faccio un'altra una cosiddetta che tra poco voi non capite ma ci arriviamo ok abbiamo sempre lo stesso spazio e tre frecce che lo collegano allora consideriamo la nostra applicazione lineare qui ok F ci porta da V a in V e noi le descriviamo come una base la più semplice la base canonica qual è la matrice rappresentatrice di questo? beh è esattamente la matrice rappresentatrice rispetto a EETF ok adesso ipotizziamo di applicare l'identità sia qui che qua però invece che usare una base canonica noi scegliamo una noi formata da dei vettori particolarini cos'è questo? questa qua è la matrice rappresentatrice di B ad E dell'identità e questa a sua volta è la matrice rappresentatrice dalla base A alla base B dell'identità adesso vi faccio notare che questa è la matrice rappresentatrice dalla base B più all'altra base B e MBB di cosa? della composizione di trendomorfismi ma l'identità composta con F composta con l'identità di nuovo fa esattamente F adesso io cerco di non utilizzare GATE ok e noi sappiamo che la matrice che rappresenta la composizione di endomorfismi è data dal prodotto in ordine inverso delle matrici che rappresentano gli endomorfismi quindi invece che fare questa poi questa poi questa poi questa la vuole nell'ordine opposto quindi questa è M e B della identità la nostra M e E della fondazione dell'applicazione di area F e MBE dell'identità ok e nulla mi vieta di scrivere questa qua la chiamo per esempio P alla meno 1 questa è la mia M e E di F e questa la chiamo P sì c'è un lemma che mi dice che M e B è uguale a MBE alla meno 1 quindi voglio cambiare le basi no problem basta che inverta la matrice adesso riguardiamo questa e riguardiamo anche questa una matrice è simile se posso scriverla come P alla meno 1 una matrice di e P quindi sarebbe molto bello se io riuscissi a questa qua la posso invertire giustamente e ottengo che M e E uguale P M e B e più alla meno 1 ho girato l'equazione però è uguale perché se questa è l'inversa di questa allora quando io faccio l'inversa di questa ottengo se questa fosse diagonale in questo modo ho trovato che la mia matrice rappresentatrice dell'enormorfismo rispetto alle basi canoniche E è simile a una matrice diagonale e queste qua cosa sono questa qua abbiamo detto che è vediamo cos'era P era MBE ok questa era MBE e questa MBE adesso pensiamoci un attimo questa D rappresenta un'applicazione lineare generica ma queste P rappresentano l'identità e l'identità è molto facile a calcolare e quindi la matrice rappresentatrice è estremamente facile a calcolare con un'eccezione pensateci MB significa fare F della base canonica E e scriverla come combinazione lineare della base B però questa applicazione lineare è l'identità e quindi potrebbe essere non semplice scrivere un vettore E1 come una combinazione lineare della della base B però invece questa è estremamente facile perché se io calco l'identità della base B questi sono esattamente i vettori della base B e se io scrivo le coordinate rispetto alla base E dato che ho la base canonica con la formata da 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 mi pare abbastanza ovvio che se questo qua avrà per esempio il vettore 2 0 7 lo posso scrivere come 2 volte il primo più 0 volte il secondo più 7 volte il terzo e quindi la matrice MBE dell'identità non è altro che i vettori della base B messi in colonna B1 la colonna B2 la colonna B3 quindi è molto facile cosa che non è facile trovare i vettori particolari che fanno la base B e fare i calcoli ogni volta però adesso possiamo vedere un sacco di cose belle possiamo intanto dare un paio di definizioni abbiamo detto che esistono v autovettori e lambda autovalori bene noi sappiamo che dato che è l'autovettore diverso a 0 io posso chiamare un v di lambda un autospazio e lo definisco come l'insieme dei vettori dello spazio da dove partiamo tale che f di v è uguale lambda v notare non c'è un diverso da 0 qua quindi l'insieme di tutti i vettori che fanno così con un certo lambda fissato non lambda generico che quindi mi fa l'insieme di tutti i autovettori no solo quelli che lo fanno in una direzione quelli che per esempio rimangono inalterati che diventano il doppio che diventano il nonoplo ok ma vi faccio notare che quindi l'equazione lì posso scrivere f di v meno lambda v è uguale a 0 ma f di v meno l'identità calcolata in lambda v è uguale a 0 ma questo significa che f di v meno lambda volte l'identità di v uguale a 0 e se guardate questo qua è un altro modo per riscrivere che l'autospazio è l'insieme dei vettori di una applicazione di linea particolare è l'insieme dei v appartenente a v grande appartenente a v grande tale che lambda volte l'identità dello spazio meno f su di loro faccia 0 ma questo significa che appartengono a un certo kernel un certo nucleo di una certa applicazione di linea lambda volte la meno f e se volete pensarlo in questo modo allora il kernel noi sappiamo che è un sottospazio vettorale di v e quindi in particolare anche 0 e non è una contraddizione qua io non ho messo v diverso a 0 quindi in questo insieme posso anche sciagliere il vettore 0 che c'è sempre perché v è un capo a spazio vettoriale e quindi qua dentro c'è 0 qua dentro esiste il vettore 0 qua dentro esiste il vettore 0 perché il kernel è un altro spazio vettoriale ma quindi posso sempre scrivere v di lambda come l'insieme dei vettori v appartenente v tale che v è autovettore e autovettore con il suo relativo autovalore lambda ma in questo modo stiamo escludendo lo 0 perché gli autovettori sono sempre diversi a 0 e la devo unircelo in questo modo vi conto tutti gli elementi ok cosa mi serve questo mi serve perché da ogni autospazio giustamente sono spazi vettoriali avranno una certa dimensione dimensione di v di lambda è un certo numero io vi faccio notare che intanto noi gli diamo un nome la chiameremo molteplicità geometrica di un autovalore ma adesso sappiamo una cosa bella che da ogni spazio vettoriale noi possiamo estrarre una base e non solo perché potremo anche stare in futuro una base di vettori orto ormali ma ci arriviamo quindi sia b per esempio di lambda 1 base di v di lambda 1 ecco se voi leggete al contrario questa abbiamo trovato che i v di lambda sono insieme degli autovettori quindi una base sarà una base di autovettori sono tutti autovettori e voi mi direte mi sembra mi sembra ragionevole ma magari c'è una base nulla cioè esiste magari una base di un certo autovalore i base di v di lambda di che è uguale allo 0 cioè magari c'è questo autospazio che è vuoto ma in realtà vi faccio vedere che non è possibile perché la lambda valore identità meno f è sempre un endomorfismo perché è applicato a v e ci restituisce valori in v nel k spazio v e quindi per la primissima cosa che abbiamo detto o è bionivoca oppure non è né iniettiva né surrettiva né bionivoca ma noi sappiamo che non può essere non può essere iniettiva perché se noi abbiamo f di v uguale lambda v rifacciamo tutto questo ragionamento rifacciamo tutto questo ragionamento e arriviamo al kernel di questa quindi questa è la parte bella se v è diverso da 0 e ovviamente è quindi allora è un auto vettore con lambda appartenente al campo se questo qua è un auto valore allora lambda volte l'identità dello spazio vettoriale dove siamo meno f non è iniettiva quindi il suo kernel kernel è sempre diverso da 0 e quindi non è subiettiva ma allora possiamo per esempio sapere che dimensione avrà quindi la moltiplicità geometrica di lambda i uguale è la dimensione di v di lambda i cos'è il termine di luce capelli no scusatemi cos'era l'altro è data da n ma si è luce capelli meno meno il rango della matrice rappresentatrice che rappresenta lambda volte identità di v meno f ora cos'è questa cosa qua possiamo notare che lambda volte identità di v meno f se noi ci chiediamo una matrice rappresentatrice noi possiamo sempre confondere un'applicazione leare con la sua matrice rappresentatrice quindi questa qua è una differenza di endomorfismi e la matrice rappresentatrice è data dalla differenza delle matrici rappresentatrici quindi lambda volte la matrice identità meno una qualsiasi matrice rappresentatrice del endomorfismo e adesso vorrei introdurre una cosa molto molto bella che è poi il polinomio caratteristico poiché questa matrice posso definirne il suo determinante posso dire il determinante di lambda volte identità di n meno e e e di f questo è un polinomio in funzione di lambda dato che lo possiamo calcolare per lambda pissato oppure per un genrico lambda e questo sarà un polinomio caratteristico pdf di un genrico a otto valore lambda ma vi faccio notare un'altra cosa bella e tra poco la vediamo molto in dettaglio che lui è un polinomio ma non solo che è monico quindi il primo coefficiente termine di grado massimo è 1 ma non solo quindi questa roba qua la posso scrivere come una volta lambda la n più adn meno 1 lambda la n meno 1 qua ci sono termini fino al grado 0 anzi fino al grado 1 facciamo più a con 0 adesso io vi dirò anche di più che questi termini qua non sono a caso perché lui intanto deve essere obbligato a essere 1 vi faccio notare che ogni tanto si vede che chi di f è dato da me meno lambda volta in t cambia no le radici del polinomio non cambiano cambiano i coefficienti si biccano qualche più qualche meno e qualche ogni termine è diverso quindi è comodo usare invece la formula che ho scritto perché potete verificare se avete fatto qualche calcolo giusto perché qua io ho un 1 che è estremamente facile questo qua ho un coefficiente particolare e questo qua anche che posso verificare infatti il secondo coefficiente è dato da meno la traccia della matrice rappresentatrice e mentre invece l'ultimo si becca più o meno il determinante della matrice e adesso la cosa più importante noi abbiamo tutto basato su su questi autovalori autovettori ma come diavolo si trovano beh magari gli autovettori sappiamo con la giubba lineare risolvere perché sono le soluzioni di un sistema particolare e tra l'altro vorrei far notare una cosa un esempio se io ho un sistema lineare x più y uguale a 0 x uguale meno y e x più z uguale a 0 voi mi direte ma 1 ci sono infinite soluzioni io dico sì anzi aggiungo un'altra scusatemi no lasciamo lasciamo le tre queste qua sono idealmente dipendenti e non l'ho fatto di a caso perché quando voi andrete a risolvere gli autospazi a cercare la base autospazio qualche equazione sarà semplicemente dipendente questo deriva dal fatto che la volta identità meno m non è una matrice che rango massimo perché la pianeta non è iniettiva e quindi non è soggettiva e quindi la dimensione delle colonie di questo non è massima ed è per questo che esistono dei vettori che hanno base perché se io provo a calcolarmela cioè io provo a calcolarmela un v di lambda con lambda che non appartiene all'insieme degli autovalori che si chiama spettro di applicazione lineare lui se lo è diverso è sempre solo 0 infatti non ci sono dei v di lambda con dei autovettori senza un autovalore relativo quindi occhio ai suoi stemi lineari perché se non sono veramente dipendenti non riuscirete mai a ottenere niente e occhio quando li risolvete a non fare per esempio dei pacciughi che avevo fatto io all'epoca cioè x uguale meno y la sostituisco qua dentro ottengo meno y uguale meno z e io mi impallavo cosa devo fare il vettore quindi generico x y z è formato da quasi anche troppo facile però ogni tanto io mi impallavo x y y no perché dovete sempre tenere conto di tutte le equazioni quindi in realtà qua avrei dovuto mettere un meno y e occhio e occhio invece a non sostituire mai valori numerici perché se voi provate un 0 0 0 vi uscirà sempre e grazie al cazzo perché è un autospazio quindi elemento nullo deve sempre esserci ma non è quello che vi chiede ora quindi la parte bella è che il polinomo caratteristico ha delle radici e le radici sono solo gli autovalori quindi trovare le radici in un polinomio è una cosa facile ci permette di trovare gli autovalori quindi qui lambda autovalori tali che f è di v uguale lambda v con v autovalore quindi deve essere diverso da 0 ma non solo perché se gli autospazi quindi i vari v di lambda 1 v di lambda 2 fino a v di lambda n hanno delle proprietà particolari sono sono kernel quindi sono sottospazi vettoriali di v ma non sono solo sottospazi vettoriali di v perché sono tra loro in somma di retta perché la loro intersezione è 0 infatti contengono sempre lo 0 e se voi vi immaginate per esempio una funzione o un endomofismo da r3 a r3 gli autospazi possono essere o dei piani o delle rette che passano sempre per 0 perché sono spazi vettoriali e non sono mai tra loro coincidenti e questa cosa qua è bellissima perché noi sappiamo che f è diagonalizzabile se e soltanto se lo spazio originale quindi è la sommatoria diretta magari che non sono n e v di lambda i perché ho messo una caratterizzazione della diagonalizzabilità di un endomorfismo perché questa roba qua succede sempre ma noi non sappiamo se è uguale a v cioè per il teorema del completamento diretto sappiamo che loro la sommatoria di tutti è minore uguale tipo magari siamo sfigati e invece che per esempio essere in in r3 quindi avere qua uno spazio che ha una retta che ha dimensione quindi moltiplicità geometrica 1 questo 1 e questo 1 quindi verrebbe dimensione uguale a 3 la somma potremmo essere in un caso più più sfigato per esempio siamo in r4 e abbiamo solo tre rette questo può succedere ed è importante perché è proprio la caratterizzazione di un demorfismo e l'altra è che l'altro modo per rivedere questa quindi è che la sommatoria delle dimensioni sia uguale dimensioni di questo quindi n sia uguale alla sommatoria delle dimensioni degli autospazi che sono chiamate molteplicità geometriche ma non solo perché un teoremetto ci dice che se f è diagonalizzabile e noi abbiamo per esempio b1 base di v1 fino a b di p e dai b di p base l'autospazio ultimo fu di p allora noi sappiamo finalmente qual è mpb di f ossia sappiamo qual è la base questa è diagonale e la base b è b1 unito con b2 unito unito fino al bp è l'unitoria si esiste anche l'unitoria delle basi degli autospazi perché sono tutti autovettori quindi se volete rileggere un endomorfismo è diagonalizzabile se sotto se lo spazio vettoriale v ammette una base di autovettori oppure viceversa quindi se hai una base di autovettori di v che diagonalizza allora quella base è in modo unico di autovettori e quindi la matrice rappedatrice è diagonale adesso direi che con la diagonalizzazione è fatto tutto magari facciamo un esempio ok abbiamo per esempio un endomorfismo da r3 a valori in r3 tale che ti prende i vettori x y e z e ti li butta in x meno y più z meno 2x meno z meno 2x meno 2y e più z li scrivi in verticale ma non cambia molto noi ci calcoliamo la matrice rappresentatrice di f rispetto alle basi canoniche di r3 che sono 1 0 0 0 1 0 e 0 0 1 questa qua la si fa a occhio perché f di v 1 f di e 1 è dato da 1 meno 2 e meno 2 e non ho fatto male a scrivere direttamente f di e 1 in colonna perché se voi mi chiedete qual è la combinazione lineare da dare a f di e 1 per scriverlo come combinazione lineare della base di arrivo questa beh è la base canonica quindi sono esattamente queste per invece f di e 2 abbiamo meno 1 qua non ci sono le y qua c'è un meno 2 e poi per le z quindi 0 0 1 abbiamo 1 meno 1 e 1 qua c'è un attimo i colori magari no 1 2 e 3 sono dati da 1 2 e 3 mentre invece 1 2 e 3 sono dati da 1 2 e 3 ottimo allora proviamo a calcolare il polinomio caratteristico che è il determinante di lambda volta l'identità 3 per 3 meno la matrice rappresentatrice quindi questo è un polinomio è un sì è un polinomio ma lo scriviamo come determinante di 1 per lambda meno 1 qua abbiamo 2 e 2 abbiamo 1 lambda meno 0 e poi abbiamo un 2 qua abbiamo un meno 1 qua abbiamo un 1 e qua abbiamo un lambda meno 1 ok se vi fidate questa roba qua veniva lambda meno 1 lambda più 1 e lambda meno 2 provate a usare il teorema di Laplace e espandere su una riga di per sé vi do un aiutino posso scriverlo così giusto? alla 1 alla 1 alla 1 quindi cosa significa che intanto 1 lo spetto dell'applicazione è composto soltanto da 1 meno 1 e 2 ma questi autovalori quante volte sono radice? allora possiamo chiamare la monoteggistà algebrica invece di un autovalore è il numero di volte che è radice di un polinomio quindi come radice del polinomio caratteristico di f quindi la molteplicità algebrica di lambda 1 in questo caso è anzi di lambda i è uguale a 1 per qualsiasi i da 1 a 3 1 2 3 ecco quando noi avremo questa cosa qua cioè il polinomio caratteristico è totalmente riducibile e a radici semplici a radici semplici significa questo che hanno tutte molteplicità algebrica 1 e totalmente scomponibile significa per esempio che non c'è una cosa del genere perché lui non è scomponibile nei reali perché è lambda meno i per lambda più i ecco quando noi abbiamo una cosa di questo genere di sicuro l'endomorfismo è diagonalizzabile e vi faccio notare un'altra cosa un'altra caratterizzazione f è diagonalizzabile se la molteplicità geometrica per ciascun autovalore è uguale alla molteplicità algebrica di ogni autovalore e se la sommatoria delle molteplicità geometriche è proprio uguale alla dimensione di v e quello che vi ho appena detto io quindi è un caso particolare di questa caratterizzazione perché immaginatevi di avere le molteplicità algebriche uguale a 1 che sono uguali a quelle geometriche quindi quante ce ne sono è stamente n che sono n autovalori distinti e quindi qua abbiamo la sommatoria da 1 fino a n di tutti 1 quindi è un caso particolare ok adesso quindi con il nostro esempio possiamo continuare a calcolarci autospazi v di 1 è il nucleo di lambda volta ridentità meno f con lambda uguale 1 quindi ridentità meno f ma adesso basta fare così quindi questo qua è il kernel di 1 volta l'identità meno f posso confondere ecco l'ho già fatto dovevo scrivere qua idv ma posso confondere l'applicazione lineare con la matrice rappresentatrice quindi se avete voglia vi ricalcolate 1 volta l'identità meno a me se non avete voglia come me ok questa cosa qua l'abbiamo già calcolata in generale per qualsiasi lambda quindi basta sostituire al determinante di lambda volta ridentità meno la matrice rappresentatrice di f lambda in questo caso uguale 1 quindi qua abbiamo 0 qua abbiamo 1 e qua abbiamo 0 quindi abbiamo 0,2,2 0,2,2 poi abbiamo 1,1,2 1,1,2 e direi meno 1,1,0 ok e vi faccio notare che lo ripeto questa matrice qua non ha rango 3 e non deve avere rango 3 se vi esce con rango 3 avete sbagliato i calcoli e lo vedete perché la colonna 2 più la colonna 3 danno esattamente la colonna 1 1 meno 1 fa 0 1 più 1 fa 2 e 2 più 0 fa 2 quindi questa cosa qua non ha rango massimo e quindi fra l'altro la dimensione di v di 1 è ben detto che è la dimensione di r3 quindi è 3 meno rango di questa matrice che io chiamo questa cosa qua meno rango sembra l'identità come l'omorfismo ma stacce ok quindi come vogliamo estrarre una base di 8 vettori abbiamo due modi uno furbo uno meno furbo ma sicuro il primo è scriversi x meno y uguale a 0 poi 2x più y più z uguale a 0 quindi 2x più y più 0 z uguale a 0 e risolvere questo sistema lineare oppure essere un pochettino più furbi e semplificarci la vita con Gauss quindi per esempio questa qua la lasciamo uguale e questa qua ce la scriviamo come una volta la riga 3 meno una volta la riga 2 di solito con Gauss bisogna stare attenti a non modificare il terminante ma in questo caso qua non è importante perché tanto ci interessa il rango e il rango rimane uguale in qualsiasi caso 2 meno 2 fa 0 2 meno 1 fa 1 0 meno 1 fa fa meno 1 e finalmente osserviamo che in un altro modo prevederla queste due righe qua sono uguali quindi posso sottrarle e avere una riga di 0 ossia riottengo ah scusatemi 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 errore di distrazione ho sbagliato le variabili qua spero di non averlo fatto in altri punti qua era giustamente y meno z ok quindi qua posso riscriverlo come y meno z uguale a 0 e 2x più y più z uguale a 0 che è molto più facile risolvere e stare una base perché infatti una base di questi vettori era insieme dei vettori formato da x meno x i meno x con x a parte all'interiare quindi una base è il vettore 1 meno 1 meno 1 oh fantastico e lo chiamerò v1 che è un autovettore che è la base di v di 1 qual è la modalità geometrica? se volete qua l'ho scritta è 3 meno il rango di questa quindi è 3 meno 2 che fa 1 adesso dobbiamo rifare lo stesso giochino con v2 allora calcoli alla mano vi trovo già una base io 1 1 2 e questo la chiamerò v2 mentre invece il terzo autospazio ah non vorrei essere confusionario questo qua è l'auto valore lambda 2 che equivale a meno 1 e questo è l'auto valore lambda 3 che equivale a 2 se i nomi li potete scegliere un po' ad cazzum troviamo una base di questo che è 0 1 1 lo chiamerò v3 e quindi finalmente posso crearmi la mia base di autovettori che è v1 v2 e v3 rispetto a cui la matrice rappresentatrice di f è diagonale adesso la cosa più potente dovrei calcolarmi mbb assolutamente no perché se sono autovettori significa che sono lambda volte se stessi dato che appunto vale questo fdv uguale lambda v non cambia e quindi la matrice avrà soltanto lambda 1 qua lambda 2 qua e lambda 3 qua quindi nel nostro caso era 1 0 0 0 meno 1 0 0 0 2 adesso vi faccio notare le ultime cose negli ultimi minuti che cosa cambia se io cambio l'ordine in cui magari metto nella base v1 v2 v3 assolutamente niente se io scelgo v3 v2 v1 allora mbb è uguale a lambda 3 tutti 0 lambda 2 tutti 0 e lambda 1 cambia soltanto quindi la cosa importante è che se ne ho 8 vettori non è importante l'ordine a patto di essere coerenti e se noi ci chiedo la matrice P invertibile tale che A e la matrice diagonale sono simili lo proviamo perché noi sappiamo che è M B E dell'identità ma questo è estremamente facile perché l'identità calcolata sulla base quindi su per esempio su v1 è esattamente v1 e le coordinate di v1 rispetto a e sono esattamente i coefficienti di v1 in ogni entrata questo qua posso anche metterci un i e vale per qualsiasi e quindi la nostra matrice di passaggio sono i vettori v1 v2 v3 messi in colonna quindi andiamo a ripescarci era 1 meno 1 meno 1 che era v1 poi abbiamo 1 1 2 che era v2 e 0 1 1 che era v3 adesso se ci chiedono P alla meno 1 no problem perché noi usiamo l'algoritmo di Gauss quindi scriviamo qua l'identità e operiamo con Gauss per avere oh ok questa roba qua operiamo con Gauss al fine di avere a sinistra l'identità e a destra abbiamo assolutamente più alla meno 1 e questo è tutto quello che dovete sapere per diagonalizzare poi ci sono dei consigli e delle osservazioni a notare che se A è simile a B allora anche A la N è simile a B la N ma non solo queste matrice qua hanno anche lo stesso determinante ma non solo hanno anche lo stesso poema caratteristico e questa qua la potete vedere anche per il teorema di P perché B appunto era data da P di P alla meno 1 o viceversa queste qua sono le matrici di passaggio di identità quindi al determinante 1 e il determinante di prodotto di tre matrici è data dal prodotto di tre determinanti quindi è 1 per il determinante di D per il determinante di più alla meno 1 e non solo l'ultima cosa che hanno la traccia invariante che è importantissimo per la fisica 2 quindi per il determinante di P è una matrici diagonale quindi è il prodotto di dimensione diagonale ma il prodotto di dimensione diagonale sono ovviamente gli autovalori e questo è tutto ci ciao l'ultimo l'ultimo di l'ultimo